La chiusura del centro di urno integrato di Viale Vespucci diventa un caso. La polemica in furia. La struttura accoglie pazienti affetti da problemi psichiatrici finora assistiti dalla cooperativa La Rondine, cui per la nota inchiesta dello scorso aprile è subentrata la cooperativa Stella. Due giorni fa è arrivata la comunicazione della ASL, centro di salute mentale, di chiusura del centro di urno integrato. Rischiano il posto 27 lavoratori, di cui la forte denuncia nel corso della conferenza stampa della funzione pubblica CGL rappresentata da Massimo Di Giovanni. Noi abbiamo fatto delle riunioni e dove la ASL, nero su bianco, ha scritto che tutti e 27 i lavoratori sulla base della clausa sociale sarebbero stati tutelati. Il 20 di settembre ci siamo presentati al tavolo che avevamo riconvocato per avere appunto questa certezza, il 17 addirittura ancora prima del 20. Il protocollo ASL manda alla cooperativa che la sta gestendo La Rondine un'esecuzione, dice tu te ne devi andare il 21 di settembre, senza capire che fine fanno i pazienti psichiatrici, che fine fanno i lavoratori. Quanti lavoratori è a rischio? Sono 27 lavoratori questo appalto, perché l'appalto è comprensivo di tre territori, Tocco da Casauri, Penne e Pescara. Su Pescara ci sono sette lavoratori che rischiano il posto, ma il sindaco di Pescara ha detto che siccome vuol far rimanere questo servizio, addirittura lo vuole mantenere e potenziare, perché c'è esigenza, tanto è vero che il Lazio, da quello che si dice, apre le porte e questi due pazienti psichiatrici dovrebbero essere appunto quelli che andranno secondo la ASL nel Lazio, quindi anche consumando una mobilità passiva, perché gli paghiamo noi i soldi alla ASL e quindi a questo punto sarebbe la regione Lazio, guarda casa, ad attrarne i vantaggi. È proprio una cosa gravissima, dove la ASL si crede padrone del vapore. Qual è la soluzione? Se questo centro per loro è inidoneo, la soluzione potrebbe essere che questi pazienti invece di andare nel Lazio vanno o a Penne o a Tocco da Casauri e i lavoratori seguono appunto i pazienti. Quanti pazienti psichiatrici sono senza copertura in questo giorno? Oggi qui a Pescara due, perché il centro di urno integrato attualmente sono per due persone, ma è chiaro che noi abbiamo una situazione complessiva che sono circa 30-40 pazienti psichiatrici dislocati appunto sui centri di urno e sulle case famiglie di Penne, Tocco da Casauri e Pescara. Secca la replica della direzione dell'ASL di Pescara che in una nota precisa quanto segue, il centro di urno integrato non ha i requisiti per svolgere attività sanitaria di una struttura con assistenza H24. Non è stato arrecato alcun danno o pregiudizio ai due pazienti psichiatrici per la chiusura della struttura, poiché gli stessi, dopo aver rifiutato ripetutamente seding più idonei alle loro condizioni, sono stati dimessi e la stessa dimissione è stata comunicata con largo anticipo per eventuali ripensamenti ai pazienti e agli amministratori di sostegno oltre che alle istituzioni competenti. Giudice tutelare del Tribunale di Pescara. Riguardo alla situazione dei lavoratori, l'ASL di Pescara ha posto in essere tutte le misure a garanzia dei lavoratori prevista dalla normativa vigente. Pertanto ogni accusa circa una presunta lesione dell'affidamento dei lavoratori come delle istituzioni è da escludere categoricamente.